è molto buona anzi da leggere anche se non sai leggere credo di avere inavvertitamente appena insultato un po' il mio stesso libro però era inavvertitamente perché è molto bello Alex ci rimane è morto ci rimane è morto Alex no sei citta Alex morto ma no ah senti faccio pium pium vedi perché non puoi mai fare il motore sei un cretino dove fate? fa pium piume lo figlio ti distrai con tutto tipo i gagnolini mi potrà incontrare il vero lion e anche la verissima porca miseria continuiamo a farle ancora di più e a quanto pare in questo mondo è cambiato qualcosa di grande ma oh mio dio Giorgio così dopo che se ne va via dalle pallucce io so sei un scemo dopo che se ne va io so dove andare che ci sono delle robe che possiamo arrubare gabbia della vendetta e insomma 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 c'è gabbia entra entra della vendetta e c'è cartogio cartogio brutogio se ne tiriamo ad Alex puzza Alex con la sua area di scurreggio e ce le scioglie le palle vabbè che ridi le palle di neve ma che eh si ridi ok 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 fai cura la fila bubolo 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 io ho sentito ha detto ha detto una parolaccia bubolo